Obiettivo 3 punti per l'Aquila Calcio per proseguire nella striscia di vittorie consecutive, 4 nelle ultime 4 giornate, e proseguire nella rincorsa alla capolista al balonga, distante 2 punti. Il tecnico Morgia punta ad avere a disposizione il forte attaccante esterno Mini Incleri e il centravanti in buon vissuto, mentre non sarà del match il portiere Salvetti. Sul campo del Gran Sastro Italia il rosso-blu affronta nel Sansepolcro, che naviga nei bassi fondi della classifica del girone, ma che domenica scorsa non è sceso in campo a causa del devastante terremoto che ha colpito Umbria e Marche. Una squadra che, come spiega anche il DS Battisti, verrà nel capologo abruzzese con il coltello tra i denti per recuperare il distacco accusato in classifica a causa di una falsa partenza. Comunque a 9 punti in classifica è una partita da recuperare, quindi diciamo che a parte, se non ricordo la prima o la seconda giornata dove ha preso l'imbarcata, è una squadra che poi ha iniziato a fare risultato e che ha dato del fio da torcere a tutti e sicuramente domenica verrà qui per fare la gara. Come diceva giustamente Ugo, ogni squadra, qualche affronta l'Aquila, probabilmente mette qualcosa in più, perché non dico che è la partita della vita, ma quasi. Noi con i piedi per terra, ma questo non c'è il rischio che non possa accadere, perché il mister già da domenica sul pullman faceva un po' la conta degli infortunati e già pensava alla partita dopo, quindi sicuramente la grande umiltà e la grande voglia di vincere dovrà fare la differenza anche domenica. Partita difficile, però io l'ho detto, ma non è una questione di presunzione, perché assolutamente non ce lo possiamo permettere, però io credo che il nostro destino dipenda da noi, quindi grande rispetto per tutti, però credo che dobbiamo essere noi a fare la partita e a dimostrare di volerla vincere e poi alla fine portare a casa i tre punti.